Per quanto riguarda la muratura armata, io non ho esperienza diretta, nella progettazione di strutture nuove in muratura armata. Quello che posso dire, ho visto, vedo alcuni esempi qui ad Aquila di realizzazione di costruzioni per edilizia residenziale in muratura armata che, devo dire, procedono con grande velocità. Gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio è stata riaperta nel 2017 dopo un importante restauro. Come si è intervenuti? Per fortuna c'è stato l'intervento dell'ENI, bisogna dirlo, è stato un intervento molto importante. L'ENI ha messo su, ha insediato una commissione chiamata Ripartire da Collemaggio, nella quale erano presenti tre atenei, l'Ateneo dell'Aquila, il Politecchio di Milano e l'Ateneo di Roma. In più era presente la soprintendenza, era presente la direzione regionale dei beni culturali, era presente anche la curia con i propri tecnici, era presente il comune dell'Aquila che è proprietario della Basilica. Quindi abbiamo operato insieme, credo sia stato uno dei primi esempi di proprio commissione multidisciplinare per la progettazione. Quindi abbiamo dovuto mettere insieme anche diverse sensibilità, quelle in particolare degli strutturisti o quelli con la sensibilità dei restauratori. Io quello che vi posso dire, io ho trattato soprattutto i problemi relativi alla facciata, questa decorata, alla parete della Porta Santa, alle colonne di Navata e all'Abside, di questo mi sono occupato dal punto di vista strutturale. E vi posso dire, questa Basilica, così come peraltro dice e sottolinea non solo la normativa attuale, ma anche quella dell'NTC 2008 diceva le stesse cose, e la circolare applicativa, questi edifici caratterizzati da pareti alte snelle, con l'unico orizzontamento dato dalla copertura, tendono a innescare dei funzionamenti locali, piuttosto che avere un comportamento d'insieme, un comportamento globale. Ed è questo che abbiamo rilevato in maniera molto chiara, attraverso il tentativo di collasso per ribaltamento della parete decorata, il tentativo di ribaltamento della porta santa, dell'Abside, quindi c'è stato proprio un comportamento di vari macroelementi che si sono sconnessi e hanno tentato di funzionare per conto proprio. Quindi soprattutto per quello che riguarda gli interventi che noi abbiamo proposto come Università, come Ateneo dell'Aquila, noi ci siamo proprio concentrati su questi macroelementi e abbiamo cercato di mettere in sicurezza questi macroelementi. Devo dire che prima delle proposte intervento noi abbiamo fatto una serie di indagini molto estesa sulla Basilica, anche relativamente al terreno di fondazione. Le pensi che qui sono stati fatti, sono stati fatti dei sondaggi che sono arrivati a ben oltre 250 metri di profondità, proprio per avere tutta la stratigrafia e per poter valutare in varie sezioni, a partire dalla facciata andando verso l'Abside, per poter valutare la risposta sismica locale. Questo è stato fatto proprio per avere la migliore conoscenza possibile, sia dal punto di vista geotecnico, sia dal punto di vista dei materiali che costituivano la Basilica. Quindi noi abbiamo fatto queste proposte, queste proposte sono state accolte, discusse dagli altri partner della Commissione e poi si è arrivati al progetto che ha consentito il recupero della Basilica in tempi ragionevolmente brevi, perché questo è importante dirlo, la Basilica è stata restituita agli Aquilani in tempi, ripeto, ragionevolmente brevi e questo sicuramente va scritto a merito dell'ENI, perché diversamente le cose sarebbero state molto più difficili. Aggiungo che la Basilica di Santa Maria di Collemaggio rappresenta un autentico simbolo per gli Aquilani, per la comunità aquilana, ci tengono moltissimo gli Aquilani. Voi dovete pensare, mentre facevamo questo lavoro abbiamo ricevuto messaggi, lettere da varie parti del mondo di Aquilani che non vivono più ad Aquila, ma erano fortemente interessati al futuro della Basilica Santa Maria di Collemaggio.